È finita l'era della carta della penna. Per noi autisti adesso c'è una soluzione innovativa che semplifica le nostre giornate di lavoro. Da quando utilizzo l'app Volvo Connect con il servizio Driver Time, la mia giornata di lavoro è molto più tranquilla e ben organizzata. Ma Volvo Connect offre molto di più. Ben 7 servizi attivabili. È la soluzione completa per semplificare la tua vita lavorativa. Grazie a Driver Time, con un semplice clic, ricevi i tuoi dati in tempo reale. Hai il controllo totale su tutta la tua giornata lavorativa, la guida, le pause e tutto il resto. Turni e sessioni di guida, tutto sotto controllo per evitare infrazioni. Greenview ha scelto di utilizzare il servizio Volvo Connect di Volvo Trax Italia al fine di migliorare l'efficienza del nostro veicolo e del nostro magazzino. Con la funzione Geofence riceviamo degli avvisi tempestivi sull'arrivo del nostro mezzo, così da evitare dispendiose perdite di tempo sul prossimo carico. Inoltre, Volvo Connect ti offre più di 400 criteri per analizzare dati relativi ai viaggi e sul veicolo. Volvo Connect offre la possibilità di rimanere collegati sempre con il tuo mezzo da remoto. Attraverso l'app MyTrack puoi vedere livelli di ad blu, carburante, LNG o vedere la carica elettrica se possiedi un veicolo elettrico. Oppure, da remoto sempre, puoi programmare la partenza del climatizzatore da fermo, da parcheggio, per iniziare la giornata al fresco o al caldo nella cabina del tuo Volvo. È in arrivo il tutorial di Volvo Connect, due app, sette servizi e un portale web dedicato agli amministratori e ai gestori di flotta. Hai un Volvo? Non ti puoi perdere questa occasione. Guarda il tutorial e seguici. Meno stress, più efficienza, più guadagni. Volvo Connect. Meno stress, più efficienza, più guadagni. Scopri il futuro su strada con Volvo Connect. Se stai cercando ancora il portale Dynafleet, fermati subito. Chiedi al tuo concessionario di fiducia Volvo Connect.